C'è il primo caso di coronavirus in provincia di Varese a Busso Arsizio, un signore di 74 anni che si è presentato al pronto soccorso, immediatamente è avvenuta il protocollo in modo assolutamente corretto di presa in carico del paziente, in questo momento è in infettivologia appunto a Busso Arsizio. Ho sentito il direttore generale Porfido che mi ha assicurato che tutti i criteri di sanificazione degli ambienti, di controllo e anche questo aumento di verifica su tutte le persone che sono venute in contatto con il paziente sono già partite. Ho sentito anche il prefetto, il direttore generale dell'ATS Guterres per verificare che anche le azioni dal punto di vista adesso di ricostruire quello che è il percorso del paziente che quindi ha portato anche magari a fare i contatti adesso da verificare nell'area dell'Odigiano, comunque per ricostruire la sua la sua storia personale e con lui anche tutta la rete dei contatti in modo tale da immediatamente andare a fare i controlli anche sulle persone che sono venute in contatto con lui nell'ultimo periodo. Quindi questo per tranquillizzare tutti, volevo dare io subito l'informazione in modo tale che è chiaro che c'è una presa in carico assolutamente molto attenta del caso, che tutti si sono mossi prontamente e velocemente e anzi colgo l'occasione anche per ringraziare i personali sanitari, non solo sanitari anche amministrativi, che molto celermente si è adoperata in questo senso. Massima attenzione a parte di Regione Lombardia e continuiamo a tenere sotto controllo, se ci saranno ulteriori informazioni sarò assolutamente pronto a condividerle.